ciao a tutti appena finita appena dieci minuti fa un quarto d'ora fa è finita la juve la partita della juve atlanta vinto come immagino sappiate il solito discorso ahimè che tocca fare ogni volta che la juve questa sera ha meritato di perdere come ha meritato di perdere contro il celsi celsi sono arrivati quattro schiaffoni quando è arrivato uno abbiamo perso contro un atlanta non particolarmente brillante che ha giocato un primo tempo discreto ma secondo ha giocato a risparmiare più energie possibili dove a un certo punto al settantesimo settantacinquesimo ogni volta che si toccava un giocatore dell'atlanda sembrava che li avessi fucilati dal tanto che morivano in campo e poi dopo però quando era ora correvano un po mi ricordo immobile quando abbiamo quando in aria si era fatto a zoppare il gol dopo si è messo a correre come un leprotto comunque si a parte quello adesso non volendo ricaricare la dose che non è sicuramente sportivo ma la verità è che se avessimo giocato altri 50 minuti molto probabilmente il gol non l'avremmo fatto non siamo stati pericolosi praticamente mai siamo andati in difficoltà tantissime volte addirittura forse loro potevano anche raddoppiare fortuna quale che non sia non sia successo anche perché almeno la speranza fino al novantesimo ce la siamo portata però con una juve che gioca in questa maniera c'è poco da sperare c'è poco da sperare perché è una squadra che non ha gioco non gioca bene c'è poco da fare a un gioco lento difficoltoso macchinoso lì si poco incisivo quasi ma incisivo anzi direi c'è un po terminale offensivo di bala ogni tanto ci prova ma anche lui quando non è in serata non c'è mica verso ma anche un morata che oggi ha veramente giocato discretamente male insomma aggiungo discretamente perché non voglio dire che ha giocato da merda ma si ha giocato male pure lui e siamo così siamo una squadra incompiuta con dei giocatori che non sono certamente da juve quando vedi un rabbio che gioca a centrocampo ti dice vabbè se pensi che quello lì poi dopo ti domani ma è un nazionale francese è una delle squadre più forti al mondo eppure quando giocare juve sembra rioncoglionito ma non lo so forse sarà l'area di torino che gli fa male stessa cosa da bernardeschi che è entrato secondo tempo e anche lui condizione imbarazzante pensare che deve rinnovare il contratto poi chiede anche 4 milioni non so come sinceramente si possa arrogare come abbia la faccia tosta di chiedere 4 milioni perché perché bernardeschi tecnicamente per carità c'ha anche il suo perché ma quando ferma una palla con uno stop di un certo livello tecnico dice ma che bel giocatore poi mette giù la palla e si allunga la palla e la va a perdere perché se l'allungato troppo ti dici ma che giocatore è di merda scusatemi oggi sono un po volgare ma come si fa a pensare che un giocatore così possa valere 4 milioni cioè se pensiamo che il giocatore dell'atlanta quello che prende di più 2 milioni però decisamente dei signori giocatori ha e allora insomma come fai a dare quei soldi lì a bernardeschi vanno a prendere uno che che magari ti costa 2 milioni e ti dà una prospettiva maggiore magari anche non lo conosci magari c'hai il il vezzo di dire non conoscendo magari mi può mi può fallire un anno lui sai già che gioca così e quindi il problema è sì arrivare quando la difesa ha dimostrato che qualche lacuna ce l'ha ancora purtroppo il chiellini a mezzo servizio non va mai bene perché dovrebbe giocare sempre motivi fisici non gli permettono di essere partecipe della partita completamente quindi il bonus e delict e non sempre sono perfetti delict lo è quasi sempre bruci ogni tanto fa qualche minchiata la fa di solito subiamo gol quando lui sbaglia detto questo questo volete che vi dica è una squadra che ha bisogno di rafforzarsi in attacco e soprattutto in centrocampo rabbio a mio modo di vedere un giocatore dovrebbe fare la panchina per come sta giocando stessa cosa bernardeschi bernardeschi la fa di una verità viene la sua da sostituire quando infatti è uscito McKennie ed è entrato vabbè Keen per cercare di dare una spinta offensiva decisamente la spinta offensiva invece è diminuita perché poi Keen non ha fatto assolutamente niente purtroppo McKennie si è infortunato quindi di fatto non potevi avere altre scelte però siamo ancora incompiuti dovevamo migliorare a livello tecnico soprattutto a livello di costruzione finale dell'azione la palla quando arriva vicino all'area avversaria sembra diventare bollente e quindi la perdiamo facciamo l'azione sbagliata lancio lungo non lo so la Juve sembra che smetta di giocare quando si avvicina l'area questa qui l'impressione che dà tante volte la verità poi è che abbiamo bisogno veramente di cambiare marcia e di cambiare diversi giocatori soprattutto centrocampo e perché no in attacco infatti Vlaovic sarebbe veramente il terminale offensivo che serve anche perché Morata sta dimostrando grossi limiti e Keen se pensi che Keen ha preso al posto di Ronaldo è come ti viene molto da ridere niente non so direi di aver detto tutto speriamo che le prossime partite vadano un po meglio credo che ci sia il Malmo che dovrebbe essere facilmente battibile e quindi ci rivedremo dopo ci vediamo fra qualche giorno sperando di pensare a risultati migliori ciao a tutti